Simone ci ha voluto un rigore di Ciano per batterti perché era è ripartito bene nella prima partita e tutto andava bene fino al momento di quella cinque minuti dalla fine era sembrava quasi destino dai che dovevamo dovevamo entrare senza prendere neanche un tiro però c'è dato rigore anche se vabbè poi la scelta c'era però ci ha dato rigore contro quindi non ci possiamo fare niente siamo stati sfortunati su quello se no sarebbe stato duro farci gol. Peccato perché questo Pisa fosse arrivato a playoff avrebbe dato fastidio a tanti? A tanti credo a tutti saremmo stati credo la mina vacante dei playoff poi vabbè mai dire mai potevi entrare uscire subito come entrare e stare fino alla fine però credo che avremmo detto la nostra tranquillamente anzi credo che chi ci avrebbe preso sarebbe stato molto preoccupato. E adesso come si riparte? Adesso si riparte più carichi che mai abbiamo adesso l'abbiamo assaporata abbiamo visto che ci potevamo stare ci dovevamo stare e adesso la prossima stagione partiremo con qualcosa in più però prima di tutto piedi per terra non volevamo troppo alti.